Allora ragazzi, se vi affumate, abbiamo cominciato a vedere ieri la rappresentazione dei numeri interi e abbiamo visto come rappresentare i numeri positivi e qui adottiamo la rappresentazione in binario, quindi se vogliamo vedere come è rappresentato un dato nel registro, facciamo la conversione da base 10 a base 2, otteniamo la stringa di bit, se il numero di bit ottenuto è inferiore alla dimensione del registro, per ottenere la rappresentazione bisogna completare la dimensione con tanti bit 0 fino ad arrivare al riempimento del registro, quindi se ho un registro di 16 bit, fatta la conversione, ottengo per esempio un numero su 10 bit, aggiungo altri 6 bit, post uguale a 0 in testa al numero e questa è la rappresentazione dell'intero positivo. Poi ci siamo occupati di rappresentare i numeri con segno e abbiamo visto che la rappresentazione che utilizziamo noi nell'algebra usuale, cioè la rappresentazione in segno e modulo, in realtà per il calcolatore è molto onerosa, perché è complesso andare a individuare in base al segno dei singoli, nel caso di un'addizione, dei singoli attendi, qual è l'operazione che effettivamente deve essere fatta, se è un'addizione o una sottrazione e la stessa cosa vale nel caso bisogna fare un'operazione di sottrazione tra due interi. Abbiamo visto che con la rappresentazione in complemento alla base, possiamo ottenere una rappresentazione più efficace, non abbiamo il problema della doppia rappresentazione dello zero e possiamo eseguire in maniera molto semplice le operazioni aritmetiche e possiamo fare tutto con due circuiti, con un circuito addizionatore e con un circuito complementatore. Quindi all'interno dell'AU, dell'unità aritmetico-logica, voi troverete semplicemente un circuito, un full header che fa un'operazione di addizione bit a bit con riporto, troverete un circuito complementatore, troverete un circuito comparatore che fa la comparazione bit a bit per dire se il contenuto del valore di un registro è più grande del contenuto di un altro registro e abbiamo visto anche com'è facile effettuare le operazioni e soprattutto com'è facile individuare la condizione di overflow, quella condizione che ci porta ad ottenere un numero che è scorretto, vale a dire quando eccediamo la dimensione del registro abbiamo visto che quello che troviamo nel registro è il resto modulo 2 alla n del valore vero e questo chiaramente deve essere tenuto in conto perchè se otteniamo un risultato scorretto dobbiamo accorgerci durante le operazioni. Abbiamo anche visto che questo risultato viene memorizzato all'interno del processore in un apposito bit che è appunto il flag di overflow. Quando vedremo, penso domani vi farò vedere qualche esempio nel quale noi possiamo andare a testare mediante le operazioni di ingresso uscita se il risultato di un'operazione ha comportato un errore, se per esempio stiamo leggendo un dato e questo dato non è stato letto correttamente, quindi possiamo accedere a queste informazioni che sono memorizzate nella struttura dati stavolta del linguaggio C++ che ci fa capire se un'operazione aritmetica non è andata a buon fine. Quando ci vedremo l'uno di prossimo vi farò vedere qualche esempio insieme alla gestione dei file vi farò vedere qualche esempio di queste cose. Un altro tipo di rappresentazione che è largamente utilizzato nei calcolatori è la cosiddetta rappresentazione per eccessi. Questa rappresentazione è concettualmente molto simile alla rappresentazione in complementi alla base e ha una caratteristica interessante. Quando ieri abbiamo visto la rappresentazione in complementi alla base abbiamo detto che se io prendo questo intervallo di valori, quindi valori positivi e negativi, con la rappresentazione del complemento alla base di fatto i positivi li rappresentiamo così come sono, i negativi è come se li spostassimo da quest'altra parte e quindi otteniamo che l'intero intervallo di valori rappresentabili ha i valori con il primo abito uguale a 0 che rappresentano i numeri positivi tutti questi altri che sono numeri più grandi chiaramente nella rappresentazione in binario rappresentano i numeri negativi e questa cosa se noi andiamo a confrontare il valore di due registi utilizzando un semplice comparatore è scomoda perché troveremmo che i valori negativi che sono più piccoli di questi sono in realtà rappresentati con un numero più grande se vi ricordate del caso per esempio di 4 bit da 0 a 7 rappresentiamo i valori positivi ma per esempio il valore meno 1 si rappresenta come 16 meno 1 quindi viene 15 il valore meno 2 viene 14 quindi praticamente il valore meno 1 che è più piccolo si trova a essere il valore più grande nella rappresentazione e così via la rappresentazione per eccessi prova a superare questo problema rappresentando i valori in eccesso cioè vale a dire la rappresentazione di un numero x è uguale a x più k chiaramente se noi poniamo k uguale proprio a 2 alla n-1 allora abbiamo che nel caso della rappresentazione di numeri positivi e negativi tutto questo intervallo viene traslato di 2 alla n-1 quindi i valori negativi diventano i valori che vanno per esempio in questo 4 bit da 0 a 7 quelli positivi sono quelli che vanno da 8 a 15 in questa maniera otteniamo una rappresentazione che ci consente di confrontare rapidamente due numeri e dire qual è il numero più piccolo e qual è il numero più grande c'è anche un'altra interessante proprietà della rappresentazione per eccessi che confrontata con la rappresentazione in complemento alla base abbiamo che la rappresentazione dei due numeri per passare da un numero positivo a un numero negativo basta semplicemente invertire il primo bit quindi la rappresentazione di meno 7 sarà uguale alla rappresentazione di 7 in eccessi e viceversa quindi basta semplicemente per passare da una rappresentazione all'altra basta invertire il primo bit lo 0 è rappresentato dalla stringa 1 e tutti 0 questa è la, per esempio su 4 bit questa è la rappresentazione per eccessi quindi abbiamo che il valore 0 è 1 e tutti 0 e poi così di seguito gli altri perché viene usata la rappresentazione per eccessi? vi farò vedere che è largamente utilizzata come una parte della rappresentazione dei numeri reali e in particolare la rappresentazione per eccessi viene utilizzata per rappresentare l'esponente quindi la rappresentazione dei numeri reali in segni e modulo questa è una cosa che vi farò vedere tra un attimo la rappresentazione per eccessi quali vantaggi ha e quali svantaggi ha? sembrerebbe, finora abbiamo visto tutti i vantaggi cioè è molto facile fare tutte le operazioni e peraltro c'è anche il fatto che i numeri positivi sono più grandi dei numeri negativi lo svantaggio che si ha, vi farò vedere tra poco, è legato a quando si fanno le operazioni per esempio io faccio la rappresentazione di x più y è uguale alla rappresentazione di x più la rappresentazione di y e anche le operazioni di differenza le posso fare direttamente sulle rappresentazioni ma se considerate che la rappresentazione di x più la rappresentazione di y è uguale a x più y più 2 alla n-1 più 2 alla n-1 allora è chiaro che il risultato che otteniamo è più grande quindi quando facciamo le operazioni di addizione dobbiamo poi sottrarre questo valore 2 alla n-1 e questa cosa ci rende leggermente più complicate le operazioni aritmetiche rispetto al caso della rappresentazione in complemento alla base questo per spiegarvi perché normalmente nel rappresentare i numeri interi con segno non si utilizza la rappresentazione per eccessi ma si utilizza la rappresentazione in complemento alla base questa ha una serie di caratteristiche interessanti perché come dicevo posso fare le operazioni direttamente sulle rappresentazioni così come facevo per il complemento alla base ma c'è questo aspetto che la rende un po' più complicata anche proprio a livello circuitale anche qui nel caso in cui l'operazione produce un numero al di fuori dell'intervallo di rappresentazione otteniamo un overflow e il modo di individuare l'overflow è identico a quello che abbiamo visto con la rappresentazione in complemento alla base queste sono veramente molto simili a meno di questo aspetto che è un aspetto più negativo nel caso della rappresentazione in complemento alla base in questo lucido vedete qual è proprio il rapporto tra complemento alla base ed eccessi allora questo è l'intervallo di valori che voglio rappresentare quindi valori negativi e valori positivi se uso la rappresentazione in complemento alla base ottengo che i positivi sono rappresentati esattamente da una funzione identica i negativi invece sono rappresentati da questi valori che sono più grandi la rappresentazione per eccessi invece mi dà esattamente questo andamento cioè i negativi sono rappresentati con i numeri positivi più piccoli i positivi con i valori positivi più grandi bene, adesso passiamo al problema della rappresentazione dei numeri reali allora qui qual è la difficoltà? se vi ricordate avevamo già fatto un discorso all'inizio del corso quando abbiamo provato a ragionare sul modo in cui vengono rappresentati i dati all'epoca ci siamo occupati di dire come era fatto il registro abbiamo visto come venivano rappresentati i caratteri mediante il codice ASCII e abbiamo capito che indipendentemente da come io rappresento in un registro di n bit più di 2 alla n cose diverse non ci posso scrivere allora per i numeri interi è abbastanza naturale associare a ogni configurazione del registro uno è un solo numero intero e che i numeri interi per quanto rappresenti un insieme infinito però è un insieme infinito numerabile allora io posso scegliere un intervallo che ho la rappresentazione perfetta cioè a ogni configurazione di bit corrisponde uno e un numero intero il problema con i numeri reali è che l'insieme dei numeri reali come si dice è denso in sé cioè io comunque prendo un intervallo piccolo a piacere ci trovo infiniti numeri reali qui dentro allora mentre nel caso dei numeri interi io scelgo l'intervallo che voglio rappresentare in base alla dimensione del registro se ho 4 bit c'è poco da fare più di 2 alla quarta cioè 16 numeri diversi non li posso rappresentare ma nel caso dei numeri reali ho voglia di fare piccolo l'intervallo là comunque ci stanno infiniti numeri reali dentro quindi nasce un problema di errore di rappresentazione comunque vada io devo fare un'approssimazione quando rappresenti i numeri reali quindi passando dall'algebra del continuo all'algebra dei registri ho che nel caso dei numeri reali c'è un errore di rappresentazione devo solo capire come voglio rappresentare questi valori io potrei via di principio prendere un intervallo di valori e dire va bene questo è un intervallo di valori positivi e negativi io ne faccio un campionamento uniforme e a ogni campione associo una e una configurazione del mio registro quindi ho un registro di n bit ho 2 alla n valori diversi e associo a ognuno di questi un valore chiaramente ogni valore è rappresentativo di un intero intervallo di numeri reali quindi una volta fissato l'intervallo con il quale io campiono il mio insieme allora io posso dire che questo è l'errore con il quale io rappresento il mio valore cioè ho un unico valore reale che è rappresentativo di tutto questo intervallo di valori se lo faccio sufficientemente piccolo ho un errore piccolo il problema di questa rappresentazione quale secondo voi? perché si fa così solo in situazioni molto particolari? ragazzi qui che cosa è costante? è costante l'errore assoluto che io faccio rappresentando il mio valore ma questo è proprio quello che voglio se io sto rappresentando un insieme di valori di numeri reali molto grande io posso accettare un errore di un centimetro faccio per dire che sto misurando la distanza da Napoli e Roma ma magari se sto misurando la dimensione di questo tavolo un centimetro è un errore grande perché posso per esempio non poterlo collocare in uno spazio più assegnato allora qui il problema è che l'errore è costante sia a fondo scala sia per valori molto piccoli quindi anche per valori prossimi allo zero io rappresento tutto con lo stesso errore assoluto e questa cosa salvo applicazioni particolari è molto sconveniente quello che io vorrei è avere un errore relativo costante cioè vorrei fare in modo che per numeri grandi posso accettare un errore anche più grande per numeri molto piccoli devo accettare un errore molto piccolo beh, allora quello che si è deciso, quello che si è adottato come rappresentazione è una rappresentazione in segno e modulo qui qual'è l'idea? che io, diciamo, se vado a guardare l'errore di rappresentazione immaginate che io rappresenti facciamo un esempio nel caso dell'aritmetica decimale supponete che io sto rappresentando il mio valore, il mio numero reale mediante una rappresentazione nella quale ho mantissa ed esponente quindi si dice che sto utilizzando quella che si chiama la notazione scientifica ragazzi dovreste essere abituati a questa notazione perché anche sulle macchinette della tavola quando un numero reale da rappresentare è troppo grande eccede la dimensione del display si passa automaticamente nella rappresentazione in segno e modulo in mantissa ed esponente quindi abbiamo la mantissa ed esponente allora, questa rappresentazione che caratteristiche ha? prima di guardarne i dettagli dal punto di vista realizzativo volevo discutere con voi la logica che c'è dietro allora, facciamo un esempio nel caso dell'aritmetica decimale quindi immaginate che io abbia a mia disposizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifre per rappresentare la mantissa poi ho il segno, poi ho 2 cifre per l'esponente con il segno allora, un primo problema che si ha nel rappresentare i numeri reali così è che questa rappresentazione non è univoca se io prendo il numero 127,34 io lo posso scrivere così per 10 alla 0 ma lo posso scrivere come 1,2734 per 10 al quadrato ma lo posso scrivere anche come 1,2734,0 per 10 alla meno 2 e così via cioè non ho una unicocità di rappresentazione beh, allora la prima cosa da fare è stabilire una convenzione se voglio rappresentare i numeri reali in questa forma devo scegliere, tra tutte queste possibili rappresentazioni ne devo scegliere una convenzionale e riferirmi sempre a quella allora, per esempio, possiamo immaginare di stabilire per convenzione che un numero lo rappresento sempre come 0,3 cifre per l'esponente quindi è come se prendessi un numero decimale puro come mantissa e poi ci metto l'esponente opportuno quindi il numero di partenza che avevamo, che era questo se adotto questa convenzione lo rappresento come 0,1,2734 per 10 al cubo quindi qui mi verrà rappresentato in questa forma come 1,2734 e poi 0,0,0 e qua esponente positivo e ciò 0,3 allora, una volta che abbiamo fatto questa convenzione chiediamoci, ma se adesso io prendo il mio intervallo di numeri, il mio asse reale e mi chiedo, con questa convenzione qual è l'intervallo di valori che posso rappresentare? allora, qual è il valore reale positivo più grande che io posso scrivere? qua, il fondo scala qual è? allora, abbiamo detto che sono 8 cifre, quindi scriverò 0,9999 per 10 elevato alla 99 quindi qua ho tutte cifre 9 nella mia mantissa nell'esponente ci metto l'esponente positivo più grande che è 99 questo è il valore a fondo scala più grande di questo va in overflow esattamente come andava in overflow nel caso della rappresentazione dei numeri interi domanda, qual è quello che viene immediatamente prima di questo? ragazzi e questo qua dove l'ultima cifra è 8 invece di essere 9 e questo è quello che sta qui qual è la differenza tra questi due? cioè questo intervallino quanto è grande? la differenza tra questi due è pari a diciamo a 0,001 quindi praticamente 10 alla meno 8 perché ho una mantissa di 8 bit e 10 alla 99 quindi questo intervallo è un intervallo che è enorme perché è dell'ordine di 10 alla 99 meno la dimensione del registro quindi 10 alla 91 sto dicendo che ho un intervallo qui a fondo scala molto grande qua ho la rappresentazione dello 0 qual è il numero positivo più piccolo che posso scrivere qua? allora se facciamo un'ipotesi che è ragionevole l'ipotesi che facciamo qual è? è che nella mia mantissa anche qua io potrei pur assumendo questo come numero decimale puro potrei avere anche qua un'ambiguità di rappresentazione perché potrei scrivere 0,0001 ma potrei scrivere anche 0,01 o 0,0001 allora di tutte queste rappresentazioni qual è quella che secondo voi vi sembra più conveniente? cioè se proprio dovessi scegliere in questa mantissa come ci metto i numeri quale mi sembrerebbe la soluzione migliore? vi formulo la domanda in un altro modo supponete che io so il numero 23,345 ho 6, 7, 1, 1, 1, 22 tutte queste cifre e ho una mantissa che è piccoline e con quattro cifre allora fatta l'ipotesi di avere un numero decimale puro io potrei scrivere 0,233 e tutto il resto ma anche 0,00233 e tutto il resto mettendoci la potenza della base 10 giusta quindi ottenendo lo stesso numero tra tutti questi quale mi conviene utilizzare? ragazzi mi conviene utilizzare questo perché se utilizzo questa pur avendo 4 cifre qua io scrivo 2,3,3,4 poi le altre non c'entrano perché il registro è piccolo e le perdo ma se adotto questa e io qua scrivo 0,002 è vero che con la potenza della base io ritrovo lo stesso ordine di grandezza ma è anche vero però che di tutte le cifre del numero queste le ho perso e mi è rimasta solo questa qua quindi se io voglio massimizzare le cifre significative che metto nella mantissa io faccio in modo da avere che il primo valore è sempre diverso da 0 nel mio registro perché se lo metto uguale a 0 sto perdendo se sposto la rappresentazione è vero che con l'esponente posso sempre recuperare l'ordine di grandezza però mi tramboccano delle cifre significative e quindi non mi conviene allora i progettisti si sono inventati una rappresentazione che si chiama normalizzata io faccio sì che la prima cifra che metto è sempre diversa da 0 allora fatta questa premessa ti chiedo se adotto questo criterio della rappresentazione normalizzata qual è il numero reale più piccolo che posso scrivere qui abbiamo detto che la prima cifra non può essere uguale a 0 quindi sarà 0,1 e poi ci saranno 8,0 per 10 alla meno 99 e questo e questo qua qual è quello che viene dopo? 1 in ultima posizione per 10 alla meno 99 qual è l'ampiezza di questo intervallino? siamo sull'ordine meno 99 e la differenza tra questi due è ancora un 10 al meno 8 10 al meno 99 quindi a parte la dimensione del registro siamo sull'ordine di 10 alla meno 99 quindi questa rappresentazione fa sì che i numeri molto piccoli sono rappresentati con un errore molto piccolo i numeri molto grandi sono rappresentati con un errore molto grande quindi se volessi guardarlo come campionamento direi che per valori piccoli qua i numeri sono molto fitti via via che ci spostiamo i numeri sono molto più dilatati in questa rappresentazione quindi abbiamo fatto proprio quello che volevamo invece di fare di avere un errore assoluto costante come nel caso del campionamento di forme abbiamo un errore assoluto che varia molto ma se vado a guardare l'errore relativo quant'è? l'errore relativo è valore vero meno valore misurato fratto valore vero fondo scala abbiamo detto 10 alla 99 fratto 10 alla 99 quindi che cosa mi rimane? mi rimaneva solo quel 10 alla meno 8 che era questo valore qua e qui la stessa cosa 10 alla meno 8 per 10 alla meno 99 diviso 10 alla meno 99 mi rimane lo stesso valore 10 alla meno 8 quindi abbiamo capito che l'errore relativo rimane costante lungo tutta la scala e questo errore relativo da che cosa dipende? perchè ho detto 10 alla meno 8? perchè ho questa dimensione qua allora abbiamo capito che con questa rappresentazione ho ottenuto proprio quello che volevo errore relativo costante errore assoluto molto diverso in base al fatto che sto all'inizio diciamo con valori moltiplici molto piccoli o sto a fondo scala della mia rappresentazione l'errore relativo rimane costante e lungo tutta la rappresentazione e l'errore relativo dipende solo dalla dimensione del registro allora quali sono i due parametri sui quali si gioca la mia rappresentazione? se io avessi un certo numero di cifre fissato a disposizione quali sono i due parametri su cui gioco? quante più cifre do all'esponente tanto più grande è l'intervallo di rappresentazione ma se per dare più cifre all'esponente do meno cifre alla mantissa tanto minore sarà la precisione la precisione è legata all'errore relativo quindi quanto meno cifre ci metto nella mantissa tanto più bassa è la precisione quante più cifre do all'esponente tanto più grande è l'intervallo di valori che posso rappresentare allora i progettisti possono lavorare su questi due parametri la dimensione della mantissa il numero di bit destinato all'esponente ovviamente per i numeri negativi vale esattamente lo stesso discorso perché qua c'è il segno della mantissa è il segno ovviamente dell'esponente una piccola considerazione ancora prima di andare avanti con la parte più descrittiva di questo approccio volevo ragionare un attimo con voi su quello che succede per valori molto piccoli allora mettiamoci nell'intorno dello 0 abbiamo visto con questa rappresentazione che se adotto il criterio della normalizzazione il valore più piccolo che posso rappresentare è 0,100 e poi tutti i 0 per 10 alla meno 99 supponiamo che questo sia il valore chiaramente questo intervallo quello che c'è tra 0 e il numero positivo più piccolo che io sto rappresentando è un intervallo ovviamente simmetrico anche per i valori negativi beh, tutta quest'area è un'area che per me è complicata perché? perché valori positivi o valori negativi diversi da 0 vengono confusi con lo 0 questo perché è un problema? è un problema nelle divisioni noi non abbiamo avuto il tempo di fare alcuni algoritmi che probabilmente vedete più avanti di analisi numerica ma se io voglio per esempio risolvere un sistema di equazioni differenziali ci sono dei metodi numerici che dati coefficienti la matrice dei coefficienti e i termini noti del sistema di equazioni operando con la tecnica del pivoting si chiama cioè facendo divisioni successive dei coefficienti sulle diverse equazioni arrivano a mettere una matrice in forma triangolare quindi otteniamo la soluzione del mio sistema di equazioni ma nel fare questo io faccio delle divisioni per dei coefficienti e se per caso i coefficienti sono piccoli e facendo queste operazioni ottengo valori via via più piccoli non appena questi valori diventano troppo piccoli e si confondono con lo 0 il sistema ne va a pallino perché mi compare un errore divide by 0 e quindi l'algoritmo si blocca allora in tutte le tecniche numeriche dove io faccio delle divisioni e dove queste divisioni possono diventare possono dare origine a errori perché il numero non è uguale a 0 non sto commettendo teoricamente un errore l'errore lo sto commettendo perché un numero diverso da 0 mi finisce in questo intervallo e questo intervallo viene confuso con lo 0 e quindi genera un errore quest'area è quella che si chiama Underflow mentre l'overflow è andare oltre l'intervallo di valori che posso rappresentare l'underflow significa finire in questa zona dove un valore diverso da 0 è di fatto confuso con il valore 0 allora io nell'ambito di questa rappresentazione posso porre un qualche piccolo rimedio al problema dell'underflow? cioè a me in fondo farebbe comodo ridurre quanto più possibile quest'area perché più la riduco e più questo rischio non la corro chiaramente so di non poterla ridurre a 0 perché questo errore è insito nella rappresentazione che sto facendo però mi chiedo posso ridurre quest'intervallo secondo voi c'è un modo per rimpicciolire quest'intervallo? come vi viene in mente? ragazzi il metodo più semplice è che per valori molto piccoli io rinuncio alla rappresentazione normalizzata perché se io ci rinuncio e per valori molto piccoli ragazzi molto piccoli si dica minore di questo io rinuncio ad avere questa rappresentazione normalizzata allora il mio il valore più piccolo che posso rappresentare non è questo ma è questo che ci ho guadagnato? ancora 10 a meno 8 quindi ho guadagnato un intervallo che dipende ancora una volta dalla dimensione del mio registo dalla dimensione della mantista quindi se questo era questo valore qua per 10 alla 99 ora se io rinuncio alla normalizzazione il valore più piccolo è diventato questo che si differisce dall'altro questo intervallino sarà proprio 10 alla meno 8 che rappresenta la precisione del mio registro cioè io posso ridurre l'area di underflow in base proprio alla precisione del mio registro cioè posso guadagnare un altro 10 a meno 8 e allora i progettisti hanno fatto proprio tutte queste considerazioni tra un attimo vedremo qual è la rappresentazione che diamo dei valori reali e vedremo come tutte queste considerazioni sono state adottate e hanno dato origine a uno standard che si chiama standard IE754 questa è una sigla ma insomma è questa cosa è stata standardizzata per cui adesso in tutti i sistemi di calcolo del mondo quando si rappresentano i numeri reali si adotta un criterio di rappresentazione molto preciso e puntuale prima di farvi vedere questa rappresentazione volevo fare ancora un paio di considerazioni chiaramente quando io devo rappresentare un numero reale in un registro qual è l'operazione di conversione che fa l'interfaccia che utilizziamo quando noi diciamo cin maggiore maggiore x e x è un numero reale ho definito come float x io da tastiera batto i tasti 3, 4, 7, punto 9, 8, 11, 22 tutti questi numeretti tutte queste cifre battute dal mio utente vengono acquisite dall'interfaccia di ingresso uscita vengono trasformate in un numero reale nella rappresentazione interna al calcolatore e memorizzate in un registro allora qual è l'operazione concettuale che deve essere fatta per passare dalla rappresentazione di un numero reale scritto in aritmetica decimale alla rappresentazione di un numero reale scritto in binario questo è il passaggio che viene fatto e poi diciamo il printato è rappresentato secondo la rappresentazione interna che vedremo tra un attimo allora noi abbiamo studiato in generale i cambiamenti di base abbiamo visto come si cambia una base da base 10 a una base qualsiasi e da una base qualsiasi alla base 10 abbiamo anche visto che ci sono alcuni cambiamenti di base che sono molto rapidi a farsi quelli che coinvolgono basi che sono potenze intere di 2 quindi per esempio passare da base 8 a base 16 da base 2 a base 8 eccetera sono passaggi molto veloci ma ci siamo occupati sempre di cambiamenti di base di numeri interi noi che stiamo trattando i numeri reali volendo capire come un dato è rappresentato dobbiamo ragionare su come trasformare per esempio da base 10 a base 2 un numero reale allora la prima considerazione la lezione scorsa vi ho raccontato che per fare un cambiamento di base da un numero intero in base 10 da un numero intero che è una base qualsiasi a un'altra base io faccio un'operazione di divisione quindi per esempio voglio passare dalla base 10 alla base 2 prendo il numero e lo divido ripetutamente per 2 fino ad arrivare ad avere un quosiente pari a 0 in quel caso a quel punto mi fermo e ho ottenuto prendendo in ordine inverso i resti che ho ottenuto ho la stringa che mi rappresenta il numero in quella base l'avete capito perché si fa questa operazione? ve l'ho descritta dandola un po' per scontato ma è chiaro il perché c'è qualcuno che mi sta a dire ma perché io faccio questa operazione? Ragazzi un numero n a seconda della base di numerazione in cui lo valuto è rappresentato da una sequenza di simboli diversi il numero 8 è rappresentato dalla cifra 8 in base 10 ma è rappresentato dalla sequenza 1 0 0 0 in base 2 allora questa queste due sequenze di simboli pesate questa in base 10 rappresentano lo stesso numero n quindi il numero n è l'entità che io sto considerando questo numero n è fatto da sequenze di simboli diversi a seconda della base di numerazione bene allora se io faccio questa operazione di divisione successiva quindi immaginiamo che il mio numero n è rappresentato da questa sequenza di simboli c con k c con k meno 1 c con 2 c con 1 c con 0 supponiamo di stare in base 10 quindi questo sarebbe c con 0 per 10 alla 0 più c con 1 per 10 alla 1 più c con 2 per 10 alla 2 e così via bene quindi il numero n lo posso vedere scritto in questa base come c con k per 10 a k meno 1 più c con k meno 1 per 10 a k meno 2 più c con 1 per 10 alla 1 più c con 0 per 10 alla 0 ora se io faccio le divisioni successive per la base di numerazione quindi se io immaginassi che questo è il numero in base 10 adesso se questo numero lo rappresento in base 2 avrò un'altra sequenza di simboli chiamiamoli c con non vorrei confondervi con i simboli chiamiamolo c con n meno 1 c con n meno 2 c con 1 c con 0 chiamiamoli c' questi sono i simboli che rappresentano il mio numero nella base 10 questi sono i simboli che rappresentano il mio numero nella base 2 però io il numero ce l'ho in base 10 ma vorrei ottenere questa sequenza di numeri ovviamente qua ci sarà 2 alla n meno 1 qua 2 alla n meno 2 2 alla 1 2 alla 0 ragazzi questi due numeri sono uguali perché questo è lo stesso numero rappresentato in base 10 e questo è lo stesso numero rappresentato in base 2 sarebbe come dire che 8 per 10 alla 0 è uguale a 1 per 2 al cubo più 0 per 2 al quadrato più 0 per 2 alla 1 più 0 per 2 alla 0 questa è la sequenza dei simboli in base 10 questa è la sequenza dei simboli in base 2 in questo caso io li conosco supponiamo che io conosco questi ma non conosco questi qua allora se io divido questa la parte destra e la parte sinistra per 2 che cosa ottengo? che qua faccio la divisione per 2 ottengo un quosiente e un resto qui faccio la divisione per 2 e ottengo un quosiente e un resto quando faccio la divisione per 2 di questo numero ottengo qua sarà n-2 n-3 eccetera eccetera e qua 2 scompare e quindi mi rimane il coefficiente c con 0' questo è il quosiente che ho ottenuto questo è il resto quindi quando faccio la prima divisione per 2 libero questa potenza qua e mi compare come coefficiente questo resto prendo questo numero divido ancora per 2 riduco queste potenze questa potenza scompare mi rimane il coefficiente c con 1 questo è il quosiente e questo è il nuovo resto divido per 2 si libera il successivo questo è il nuovo resto e questo è il nuovo quosiente ecco perché facendo divisione per 2 io sto liberando i coefficienti ottengo ottengo come resto i coefficienti della mia rappresentazione in quella base questo è il motivo per il quale facendo le divisioni successive per 2 mi sto andando a tirare fuori i coefficienti della rappresentazione del numero nella base in cui voglio arrivare se divido per 2 sto tirando fuori i coefficienti in base di 2 se divido per 3 sto tirando via via i coefficienti del numero nella base di numerazione 3 questo per i numeri interi ma un numero reale come lo posso rappresentare? quando io scrivo 32,57 sto dicendo che questo è 3 per 10 alla 1 più 2 per 10 alla 0 più e qua avrò 5 per 10 a meno 1 più 7 per 10 a meno 2 e così via ragazzi i coefficienti vanno esattamente in quest'ordine per la parte intera ottengo 0 1 2 eccetera eccetera per la parte decimale c'ho meno 1 meno 2 e così via allora se voglio adesso di questo trasformare questo numero da base 10 a base 2 io prima lavoro sulla parte intera e trasformo questo in base 2 poi prendo il valore 0,57 e lo voglio portare in base 2 allora qua che succede? che operazione devo fare? per liberare i coefficienti mentre qua dividevo per 10 per 2 e qua che faccio? moltiplico perché adesso avrò che i coefficienti della parte decimale il c' saranno c' per 2 a meno 1 più c' per scusate c con c con meno 1 primo c con meno 2 primo per 2 a meno 2 c con meno 3 primo per 2 a meno 3 e così via quando moltiplico per 2 quello che ottengo è un numero che sarà questa parte diventerà intera perché avendo moltiplicato per 2 questo è diventato adesso intero virgola rimane questa roba qua allora quando moltiplico per 2 sto liberando prima questo coefficiente che adesso è diventata la parte intera del numero moltiplicato per 2 virgola questa parte che rimane ancora frazionale ho trovato il primo coefficiente quindi prendo e quindi se io faccio 0,57 per 2 faccio 2 per 7 14 2 per 5 10 e 1 11 ho ottenuto 1,14 allora 1 è il primo coefficiente che ho tirato fuori 0,14 è quello che mi rimane lo moltiplico ancora per 2 e ottengo 0,28 0 è il secondo coefficiente e ottengo ancora 0,28 per 2 e così via facendo moltiplicazioni successive per 2 sto liberando tutti i coefficienti della parte decimale e quindi sto ottenendo il cambiamento sto ottenendo la stringa di simboli che mi rappresentano questo numero decimale puro converto la parte reale la parte intera converto la parte decimale ho ottenuto la rappresentazione del numero in binario allora quando devo convertire quando devo rappresentare un numero reale ne devo prima portarmi dal numero reale in base 10 al numero reale in base 2 facendo come? facendo qua divisioni successive qua moltiplicazioni successive ragazzi mentre qui è chiaro che le divisioni successive che faccio quando arrivo con il cosinte 0 mi fermo ho finito e qua quante le faccio le moltiplicazioni? quando mi fermo qua io posso andare avanti e metto tutte le cifre quando è che a un certo punto mi fermo? eh? quando ho 0 eh vabbè questo è un caso fortunato la vostra collega dice mi fermo quando a un certo punto moltiplico moltiplico e ottengo 0 e quindi e quindi certo una possibilità è che se io ho un registro di n bit faccio n e ma adesso certamente c'è un limite fisico mi fermo quando non ho più bit a disposizione ma la domanda è se io mi dicessi guarda farmi questa cosa però voglio che su questo numero ci sia un errore di rappresentazione pari a 10 a meno 3 allora quando mi fermo? ragazzi chiaramente eh se io ho un numero irrazionale questo è un numero eh decimale limitato in periodico e quindi mi trovo che potrei qua fare infinite cifre e non mi fermo mai quindi chiaramente mi devo fermare ad un certo punto quando valuto qual è l'errore cioè qual è il numero di cifre che io ritengo sufficienti per rappresentare quel valore reale con sufficienti approssimazioni può capitare che nel fare questo cambiamento di base mi viene un numero periodico perché facendo queste moltiplicazioni ritrovo una uno dei valori che ho già trovato prima e quindi quello si ripete periodicamente allora mi fermo e ho come la rappresentazione in base 10 ho un certo numero di cifre dell'antiperiodo un certo numero di cifre del periodo e ho ottenuto che posso ottenere anche in base 2 la frazione generatrice di questo numero può darsi che questo non succeda allora se io mi fermo a un certo punto devo poter vedere devo poter verificare qual è l'errore con il quale sto rappresentando questo numero ragazzi se io mi fermo qua arrivate a 0 vedete che io faccio 0,28 e poi c'ho 0,28 per 2 e ottengo 56 0,56 ho ancora 0 0,56 per 2 e ottengo 1,12 e mi fermo qua quindi ho fatto 1,2,3 e 4 passaggi è come se avessi tirato fuori il coefficiente 2 a meno 1 2 a meno 2 2 a meno 3 2 a meno 4 qua mi fermo che cosa mi è rimasto? mi è rimasto questo valore 0,12 perché ho preso le cifre 1,0,0,1 quindi facendo questa conversione ho ottenuto 0,1001 e mi sono fermato qua qual è l'errore che commetto in questo momento? l'errore che commetto è questo resto residuo l'errore è uguale a 0,12 per 2 alla meno 4 perché mi sono fermato a questa potenza qui faccio questo conticino e dico che errore ho ottenuto? è inferiore all'errore epsilon che mi ero promesso di ottenere? sì mi fermo no vado avanti è chiaro che qua nell'andare avanti ci sono due condizioni io mi fermo o quando ho ottenuto un errore che è inferiore alla precisione che ho richiesto o quando come diceva la vostra collega ho esaurito i bit che fanno parte della mia mantissa se li esaurisco prima mi posso fermare anche prima nel fare questa conversione altrimenti posso andare avanti facendo queste moltiplicazioni successive fino ad arrivare ad aver saturato il mio registro ragazzi è chiaro tutto questo? un possibile esercizio d'esame vi do questo numero e vi dico calcolatemi la rappresentazione in base la rappresentazione floating point di questo numero nei registri di macchina voi che fate? prima lo convertite da base 10 a base 2 facendo questo giochetto qua divisione successive moltiplicazioni successive per fare gli esercizi in genere vi dico considerate una mantissa di 8 bit oppure usate la rappresentazione IE 754 in genere facciamo la floating che tra un attimo vedremo come è fatta quindi prima fate questo passaggio qua e poi aggiustate i valori in base alla rappresentazione che vi farò vedere da un attimo ragazzi questi sono i concetti fondamentali che dovete capire della rappresentazione capiti questi concetti ora quello che vediamo è come si fa? qual è la convenzione che i progettisti hanno adottato per fare questo? ma dietro c'è questo ragionamento matematico che abbiamo fatto adesso vi è chiaro? se vi è chiaro questo ora sarà semplicemente vi racconto come si mette di bit da regista perché abbiamo capito come è fatta la rappresentazione ok? ragazzi ci fermiamo qualche minuto e poi vi faccio vedere qui ci fermiamo qui ci fermiamo qui ci fermiamo